Tra dire il fare c'è di mezzo il mare. Quante volte diciamo questa frase per esprimere quanto passa tra il pensare una cosa e realizzarla. Uno spazio enorme ed è proprio vero. Il mare può darci moltissime idee diverse. Infinità, pericolo, instabilità, calma, ma allo stesso tempo agitazione. Io al mare mi sono sempre sentita legata. A lungomare di Sabaudia ho trascorso ogni estate della mia infanzia. Posso quasi dire di esserci cresciuta. Quindi qui mi sento tranquilla, libera da ogni costrizione e sicura. Sicura forse perché è sempre in compagnia della mia famiglia. I migliori ricordi della mia infanzia hanno come ambientazione il mare e sono tutti ricordi felici perché qui la mia famiglia trascorreva momenti di pura condivisione ed evasione. Era come se fossimo parte integrante del paesaggio. Non eravamo mai stanchi. Anzi, per me e mia sorella era un vero dispiacere tornare a casa. I bagni erano gli attimi di maggior divertimento e le attese una vera tortura. Mia mamma era sempre con noi anche se non partecipava attivamente ai nostri giochi. Ci controllava, ci immortalava in foto tutti insieme. Veramente se ripenso a quei giorni c'è di mezzo il mare tra come eravamo prima e come siamo oggi. Per fortuna però l'amore non è mai venuto a mancare, anche se ha cambiato modo di esprimersi e di farci essere ugualmente felici. Oggi tornare al mare per me significa immergermi in una moltitudine di emozioni e cari ricordi.